La Valle del Sant'Eno è il centro di un progetto di lega ambiente che si occupa di acqua, infatti si chiama l'acqua fra passato e futuro. Parte dalla valorizzazione di un territorio, di un fiume molto importante e molto interessante, dai relitti del passato, tipo i mulini ad acqua, i rii che ancora oggi, seppure con tanta siccità, portano ancora un po' d'acqua e si proietta verso i problemi del futuro appunto. Oggi il futuro della Valle del Sant'Eno è rappresentato da un'agricoltura di qualità, da produzioni anche industriali interessanti ed avanzate e da un recupero dell'identità, della vivibilità dell'area. Uno di questi elementi di grande interesse è la presenza nella Valle del Sant'Eno di una rete di fontane e queste possono essere un elemento, un filo conduttore anche per il turismo ciclistico di cammino in quest'area. I picked you up at ten to four A presto! 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 A presto!